Jebel De La Roque, dentro Jebel De La Roque, fuori ancora i due Nil, la femmina Nil Alamun e il maschio Nil Ashal. Dovrebbe essere tutto pronto, si va agli ordini dello starter. Tutti dentro, fuori gli uomini, a posto dietro, partiti. Ienca prova ad andare in vantaggio superando Fedaina. All'esterno si presenta Jebel De La Roque, che va all'esterno di Ienca, che notoriamente corre davanti. E allora Jebel De La Roque si adegua a precedere il rosso antico e tutta Tix in corda. Intanto ha ripiegato anche Fedaina, che era rimasto in corda. Eseguiamo la curva, dove si allargano un po' tutti. I fantini chiedono spazio, lo chiedono a viva voce, come abbiamo sentito. Dietro ai primi anche Argonaut. Allora, Ienca, Argonaut, in terza corsia Jebel De La Roque, in quarta rosso antico. Questi quattro procedono tutta Tix, che ha nella scia Fedain. Questi quindi sono i primi sei. Poi c'è Uragano di Kia, in coda i due svizzeri, Nil Alamun e Nil Ashal. Prima linea movimentata, Ienca non può rifiatare, perché Argonaut e Jebel De La Roque pressano. Poi tutta Tix, Ienca a traguardo lontano e sotto la pressione di Argonaut, che precede tutta Tix all'esterno Jebel De La Roque. Poi Uragano, rosso antico richiesto, Fedain, Nil Ashal e Nil Alamun. Sulla curva Ienca è superata dai rivali e quindi ora Jebel De La Roque va all'attacco di Argonaut, in tutta corda per tutta Tix e poi Uragano di Kia, che precede Nil Ashal che muove. Addirittura Jebel De La Roque all'attacco di Argonaut. Dietro ai due c'è il Varco per tutta Tix, poi Uragano di Kia e Nil Ashal. Intanto passa in vantaggio tutta Tix su Jebel De La Roque. Poi Uragano di Kia, all'argo di tutti anche Nil Ashal, Tutta Tix, Jebel De La Roque, Uragano di Kia, Nil Ashal con Tutta Tix che è in vantaggio. Tutta Tix in vantaggio fino in fondo su Nil Ashal, Jebel De La Roque e il rosso antico. Vittoria per il Sauro di otto anni tutta Tix, numero otto dello schieramento, a segno. Maria Agman Eriksson dalla Svezia, credo, in trasferta a San Rossore, che vince per il secondo e terzo. Nil Ashal precede Jebel De La Roque. Quarto, correndo molto molto bene, è il Sauro dell'Aspa, Uragano di Kia. 8, 5, 2, 9, 4. Questo è l'ordine di arrivo di questa seconda edizione della Mutai Cup. E dalla postazione centrale è tutto.